Oggi lunedì 25 marzo una scossa sismica di magnitudo 3.2 ha colpito la provincia dell'Aquila alle 16.44. L'epicentro individuato dagli NGV è stato localizzato a 6 km da Pizzoli con una profondità registrata di 16.3 km. Le testimonianze raccolte sui social media confermano che la popolazione ha avvertito il terremoto, tuttavia al momento non si segnalano danni a persone o beni. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono stati allertati e stanno monitorando la situazione per eventuali sviluppi. Questo evento richiama l'attenzione sulla costante necessità di essere preparati e vigili nei confronti dei rischi sismici, specialmente nelle aree ad alta sismicità come quella dell'Abruzzo.